Si chiama Kat McCall Smith, è una donna di 57 anni d'età, la quale risiede nella città di Durham, nel Regno Unito, ed è stata vittima di un'esperienza devastante. Ha scoperto infatti che nel piatto pronto che aveva comprato in un supermercato c'era un topo morto. Ha vomitato per ben 12 ore, secondo quello che raccontano i media locali. Ha acquistato un pollo l'italiana nella catena di negozi, che è molto famosa nel Regno Unito. Dopo aver scaldato il pollo e aver iniziato a mangiare parte della salsa, ha toccato con la forchetta quello che credeva fosse un osso. La signora è rimasta spaventata, sciocchietta, e non scopriva che ciò che gioceva nel suo piatto era un topo morto. La donna ha condiviso le immagini della scoperta devastante, anche nei social network. La donna ha risultato poi ai consumatori a non comprare e non acquistare più cibo da quella catena di alimentari. Vi ringrazio, vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, sono cose che capitano ovviamente. Non c'è di che stupirsi, non c'è di che lamentarsi. Grazie a tutti, un caro salutore italiano, narratore italiano.